Adesso c'è una notizia che è stata battuta poco fa dalle agenzie che ci porta a Casoli dove c'è stato un incidente mortale nelle campagne tra Casoli e Sante Usanio del Sangro dove ha perso la vita Sergio De Luca, 58enne, fino al 2016, sindaco di Casoli per due mandati. La disgrazia è avvenuta intorno alle 11 in località Fonte Padula nel lagro di Sante Usanio del Sangro dove il 58enne aveva un terreno di proprietà della famiglia. De Luca era alla guida di un trattore cingolato e con un retrostante aratro stava creando dei solchi periferici per delimitare eventuali incendi. In prossimità di un fossato ricoperto di vegetazione il cingolato si è rovesciato intrappolando l'uomo. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 sul posto anche i vigili del fuoco, i carabinieri di Casoli e di Casselfrentano coordinati dal maggiore Vincenzo Orlando che stanno ricostruendo le modalità dell'incidente agricolo. Il PM Serena Rossi ha restituito la salma ai familiari. De Luca, attuale consigliere comunale a Casoli, lascia la moglie e due figli. Laureato in Agraria ha ricoperto anche ruoli di funzionario nel settore agricoltura della regione Abruzzo. Cordoglio e Dolori sono stati espressi dall'attuale sindaco di Casoli, Massimo Tiberini, suo successore alla guida del paese.